Ciao a tutti ragazzi Sono in live sulla piattaforma Mi ora twitch dove sta il nome eccolo qua Cercatemi shadowbeats Dopo poi devo cambiare il nome Perché non so più shadow Sono in live su twitch quindi Perché sono in live su twitch e non su youtube Per... no per questo Per questo Posso sentirmi La musica Nella singola che apparesce Ci vediamo in live ciao